La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età Ciao e benvenuti oggi studiamo la stagione dell'amore di Franco Battiato ma con un arrangiamento particolare suonato in fingerstyle. Per poter suonare con questo arpeggio dobbiamo abbassare la 6ta corda in D. Quindi dal E ci spostiamo al D. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto e di seguire tutti i link in descrizione che vi riporto nei miei corsi di chitarra. Suoniamo il primo accordo in questo modo posizioniamo il dito 2 sul D al terzo tasto della seconda corda e il dito 3 sul quarto tasto della quarta corda . Con la mano destra suoniamo in questo modo 6ta corda 4ta corda 3ta corda 2ta corda 3ta corda 4ta corda e poi facciamo un movimento di basso mettendo il mignolo il 4 sul quinto tasto della quinta corda e suoniamo questa nota con il pollice 4ta corda e cambiamo posizione. Quindi la prima battuta sarà questa pollice indice medio anulare medio indice pollice indice Si tratta di un accordo di D ad 11 senza la quinta. corda il secondo accordo cambia di poco posizioniamo solo il dito 1 sul secondo tasto della quinta corda facciamo la stessa diteggiatura con la mano destra questa volta però il pollice si sposterà sulla quinta corda ci sarà solo un movimento di basso sull'ultimo quarto dove suoneremo la quinta corda a vuoto. Questo accordo è un B con la tredicesima bemolle. Nella terza battuta mettiamo il mignolo cioè il dito 4 sul quinto tasto della sesta corda. Le altre dita resteranno ferme. L'arpeggio sarà questo pollice indice medio anulare medio indice medio indice suonando sempre la sesta la quarta la terza e la seconda corda. Questo accordo è un G maggiore settima. Sul quinto tasto della sesta corda andiamo a suonare un G. Generalmente il G lo troviamo sul terzo tasto della sesta corda ma avendo la sesta corda in D adesso si troverà il quinto tasto. Quindi G7 ancora G7 suonando pollice indice medio anulare movimento di basso quinta corda a vuoto sempre pollice indice medio anulare ma questa volta suoniamo sulla quinta corda. Queste 4 battute le ripetiamo per due volte Volendo potete provare a cantare già il brano la stagione dell'amore viene va i desideri non invecchiano quasi mai con l'età Andiamo avanti suoniamo ancora il D ad 11 questa volta senza il movimento di basso suoniamo con questo arpeggio pollice indice medio anulare medio indice medio indice Facciamo un A maggiore in questo modo sempre toccando le 4 corde centrali con pollice indice medio anulare medio indice medio indice ma questa volta mettendo il dito 3 sul settimo tasto della quarta corda il dito 2 sul sesto tasto della terza corda e il dito 1 sul quinto tasto della quinta corda a vuoto A maggiore ci spostiamo un E minore che suoneremo in questo modo mettendo il dito 1 sul secondo tasto della sesta corda e il dito 2 sul secondo tasto della quarta corda suoneremo anche la terza e la seconda corda a vuoto l'arpeggio è sempre lo stesso per poi suonare un G maggiore mettendo semplicemente il dito 1 sul quinto tasto della sesta corda tutte le altre corde a vuoto e concludiamo suonando un A maggiore mettendo il dito 2 sul secondo tasto della terza corda e il dito 3 sul secondo tasto della seconda corda facendo poi risuonare anche la prima corda a vuoto e ovviamente la quinta corda a vuoto manteniamo sempre lo stesso arpeggio pollice indice medio nonare medio indice medio indice suoniamo questo accordo per 2 volte se penso a come ho speso male il mio tempo che non tornerà non ritornerà più da qui riprendiamo per la seconda strofa e andiamo ad una nuova sezione dove suoniamo il F maggiore che suoneremo in questo modo mettendo il dito 3 sul terzo tasto della sesta corda il dito 4 sul terzo tasto della quarta corda il dito 2 che già si trova sul secondo tasto della terza corda e il dito 1 sul primo tasto della seconda corda il dito importante per prendere questo accordo è proprio il dito 2 dovete fare leva su questa nota su questo dito per poter prendere questa posizione poco scontata è un accordo di F maggiore particolare perché ricordate abbiamo la sesta corda in D l'arpeggio lo suoniamo sempre con pollice indice medio anulare medio indice medio indice sarà semplice poi spostare questa posizione al G maggiore quindi ci spostiamo semplicemente di due tasti e poi ancora a A maggiore spostandoci di altri due tasti ultimo accordo di questa sezione un A sas 2 che suoniamo facendo scivolare di nuovo il sul secondo tasto della terza corda quindi il 2 non si alzerà mai ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare l'amore nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai e riprendiamo la strofa quindi questa sezione la suoniamo per ben 3 volte proviamo adesso a fare pratica cantando anche la canzone vi suonerò 2 strofe un ritornello e poi chiuderemo il brano la stagione dell'amore viene e va i desideri non invecchiano quasi mai con l'età se penso a come ho speso male il mio tempo che non tornerà non ritornerà più la stagione dell'amore viene e va all'improvviso senza accorgerti la liberai ti sorprenderà ne abbiamo avute di occasioni perdendole non ritorno non ritorno non ritorno non ritorno non ritorno non ritorno ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore Nuove possibilità per conoscersi E gli orizzonti perduti non si scortano mai La stagione dell'amore tornerà Con le paure e le scommesse questa volta quanto durerà Se penso a come ho speso male il mio tempo Che non tornerà, non ritornerà più E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione Vi chiedo di lasciare un like sotto al video Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao! Grazie a tutti!